ma ciao buongiorno buon pomeriggio e direi pure buono il mondo è già qua ciappa qua ecco ma che prurita il naso buongiorno allora oggi che si mangia oggi è sabato oggi è sabato e si mangia 60 grammi di spaghettini quelli fini fini che mi devo ricordare di comprarli perché ne avrei potuti mangiare 80 però 60 62 grammi giusti erano pesati nella bilancia di che se ne dica e l'ho finita vabbè allora 62 grammi di spaghettini quelli fini e l'ho conditi con un po di pomodoro ho fatto un sughetto un po di pomodoro un po di cipollina gli ho buttato giù i funghetti e in ultima per dargli un po di verde per mangiare un po qualcosa in più di verdura gli ho messo dentro un po di songino insalata ecco e questi manco il grana gli ho messo non mi sono neanche ricordata vabbè ormai non vado nemmeno a prenderlo buon appetito gli ho lasciato dentro un po di acqua di cottura perché sti spaghettini qua specialmente questi qua fini tendono subito ad incollarsi perché siccome che olio praticamente non ce n'è dentro e io parlo e mangio e ora che ho finito di mangiare son colla allora gli ho tenuto dentro un po più di acqua di cottura che almeno rimangono rimangono mangiabili diciamo così buon appetito a chi mangia assieme alla sottoscritta buon appetito se sentite rumori molesti e la lavatrice ragazzi tra ieri e oggi me ne sono successi di tutti i colori sapete quando ci sono quelle giornate che dite vabbè date funghetto sapete quando ci sono quelle giornate che veramente guardate ma allora abbiamo cominciato ieri sera avevo acceso la lavatrice sento che non va più detto ha finito vado per aprirla non aveva centrifugato ho aperto cercato di chiudere subito ma ormai una sacca di acqua era andata fuori per il bagno acqua ovunque acqua ovunque mamma sono stata lì tipo mezz'ora a tirar su acqua ho buttato per terra gli asciugamani tutto quello che avevo per assorbire l'acqua che c'era per terra e poi ho preso pulito il filtro ed era il filtro che era sporco non fosse finita qua oggi mio figlio mi fa vai giù te col cane ma si dai ho detto una bella giornata c'è il sole fa non neanche tanto freddo prendo e lo porto qua il parco a me piace ormai ve l'ho detto tante volte quando vado al parco specialmente di giorno mi piace sedermi nella panchina mi sta lì a guardare cielo le montagne perché abitano un bel pozzo nelle montagne nevate piaccia sta lì seduta anche perché c'era il sole mi sono seduta al sole si stava da dio nonché quando mi alzo per tornare quando mi alzo per tornare siccome che le panchine qua sono di legno e all'estate le rimettono belle gli danno il colore ma ecco all'inverno con l'acqua la neve qua e là sapete che quando sono le panchine di legno tendono a lasciare quegli affari la di legno no quelli noi le chiamamo le sgire in veneto ecco pezzettini di legno lunghi dove ti puoi impigliare ti puoi far male no mi alzo mi impiglio i pantaloni proprio dietro nel culo no aspetta che cerchiamo di essere un po più femminili nel deretano sempre culo è sapete che buona anche cotto qua il sorgino songino sorgino il buono cotto insomma mi alzo mi sono attaccata dentro a sto coso di legnetto che avanzava fuori dalla panchina nel dietro non mi sono strappati proprio a l i pantaloni dietro proprio dietro fatto sta che io le mutande ce le ho sempre nere sempre sempre io c'ho qua c'è praticamente tutte le mutande che ho io sono nere solamente due sono bianche ne ho anche di colore prugna però sempre scure sono capito ecco proprio proprio oggi avevo sulle mutande bianche che vi dico la verità non metto quasi mai non metto ma siccome quando li ho comprato sulla bonprix erano cinque paia sulle 18 20 euro adesso non mi ricordo ecco però ce n'erano tre di nere o tre di prugna e due di bianche non potevi prenderle tutte nere tutte di un colore erano miste ok perciò ho detto vabbè dai per due di bianche le tengo e perciò ho preso appunto quelle bianche no altrimenti non le avrei mai prese bianche non mi piacciono proprio perciò quando sono roti i pantaloni oggi al parco proprio dietro nel deletano c'era gente al parco perché un parco ci sono i giustrine qua e là i bambini guarda cioè mi sono rotte proprio dietro e ho detto sicuramente si vedono le mutande perché proprio ragazzi proprio uno strappo a l ma non uno strappo piccolino proprio tant'è che ho buttato gli i pantaloni perché se fosse stato un strappo piccolino l'avrei anche aggiustate per stare a casa vabbè ma proprio una l grande vuoi trovare da te perciò sono dovuta prendere venire a casa come si dice la mano davanti e una dietro la mano a com'è che dico la napoli una mananza è una retta una roba del genere perché non mi si vede solo le mutande bianche perché c'era lo strappo e ho buttato via pure le mutande perché oltre ad aversi rotto i pantaloni un piccolo buco c'era anche nelle mutande capito dietro non grande che sinceramente è anche pericoloso secondo me perché se vuoi un bambino a giocare o cosa non è pericoloso veramente che puoi far male però purtroppo il parco qua è bellissimo però ci sono i ragazzi che alla sera vanno perché qua in paese non c'è niente ok la sera si riuniscono magari qua il parco no perché sono le panchine è buio possono fare quello che vogliono perciò alla sera guardate ne fanno di tutti i colori difatti c'era il parco che è stato anche segnalato perché ho visto su facebook dove c'è c'è sei di calceramica se ti scrivi lì e tutte le persone che abitano qua avevo letto una signora che aveva segnalato di stare attenti perché al parco c'erano parecchi parecchi coce di vetro di fatti quando sono andata la è vero cioè e anche se l'hanno segnalato non è che nessuno si è andato a pulirli capito perché purtroppo sti ragazzi alla sera vanno lì bevono giocano poi giocano a buttarsi le bottiglie le spaccano perciò sono vetri ovunque e lì è un parco che di giorno vanno tutti i bambini a giocare capito però dopo entro pure io in questo gruppo qua e vado a segnalare quella panchina lì che secondo me a mio dire è pericolosa perché come mi sono strappati a me così pantaloni vari un bambino qualcuno si fa male però a lasciarvi l'acqua di cottura vedete che è rimasta bella forse ne ho lasciata un po troppo e devo dire la verità però a lasciarvi l'acqua di cottura è rimasta fino in fondo fino in fondo è rimasta bella non come l'altra volta che l'avevo fatta era tutta tutta appiccicata forse ne ho lasciato un po troppo però chi se ne frega è buono ugualmente quando sia dieta ragazzi si mangia tutto si lega anche il piatto non fossi stata dieta tipo il brodino qua con due funghietti o cosa l'avrei lasciato anche lì l'avrei lavato ma sinceramente con la fame che ho guardate mi mangerai pure il piatto perciò non si butta via nemmeno il brodino che è buono pure quello e si mangia pure quello quei funghetti rimasti anche perché vi dirò che a colazione non ho mangiato quasi niente perché mi sono svegliata con un mal di testa che voi non avete idea avevo un mal di testa perciò ho bevuto il caffè con tanto latte così e ho mangiato una fetta biscottata una ma più che altro perché primo dovevo prendere la vitamina d che è quell'olio che metti nel pane qua e là dovevo prendere la vitamina d ed è un olio che dicono che è meglio metterlo nel pane no che così lo mandi giù dovevo prendere la vitamina d perciò ho mangiato una fetta biscottata e basta senza cioè così una fetta biscottata e un caffè con proprio tanto latte così e basta e poi mi sono preso un momento dopo dieci minuti che ho bevuto quella roba lì mi sono preso un moment dopo un po mi è passato adesso è mai passato fortunatamente perciò mi sono alzata che non avevo neanche fame non avevo voglia di mangiare niente perché proprio avevo mal di testa e non ho neanche fatto praticamente colazione perché da stamattina alle sette meno un quarto che sono andata in cucina sono le due adesso perché sto pranzando tardi sto pranzando perché mi sono persa via guardata avrei potuto pranzare anche prima però mi son messa mi son messa a fare il quadro sapete la collaborazione che ho avuto che c'è quel quadro la cui cui diamantini ecco mi sono messa ieri in cucina perché ero stanca ero annoiata ho detto va mi sono messa in cucina ieri a fare il quadro e perciò anche oggi ho pulito lavato a terra ho attaccato la lavatrice che sta andando adesso e che sta centrifugando adesso ho fatto un po di cose in casa lato a terra pulito qua e là e poi mi sono messa lì a fare il quadro cioè ho guardato l'ora era luna e un quarto detto porca miseria luna e un quarto me ne sono neanche accorta perché far quella roba lì ciò ti perdi proprio mi metto lì magari il tablet mi metto su musica o qualche video da guardare ascoltare più che altro e mi sono messa a fare il quadro che è bello ti fa perdere un po di tempo dai ve lo farò vedere comunque come sta diventando e come lo faccio bene spero che il video quale si è piaciuto vi mando un abbraccio vi auguro un buon fine settimana questo video uscirà stasera alle 7 forse avrete già visto la live che credo di farla nel pomeriggio adesso vediamo ma arriva sulle 5 fra una live quattro e mezza cinque ma voi l'avrete già vista e se non l'avete vista andatela a guardare sempre se la faccio perché può essere che magari non la faccio neanche non lo so non lo so devo anche guardare come si fa a farle live per gli abbonati perché volevo cominciare a fare delle piccole live per gli abbonati fargli vedere un po di cose che non mi va di far vedere a tutti quanti capito e parlare di cose magari che non mi va di farlo davanti a tutti o con tutti li faccio con quei pochi ecco e devo guardare però come si fa a farle live per gli abbonati devo andare a guardarmi come si fa perché ieri ho provato a farne una ma non ci sono riuscita devo andare a vedere un tutorial come si fa a farle live per gli abbonati perciò voi abbonati preparatevi perché se vi arriva la notifica faccio le live per gli abbonati dove li parliamo di cose nostre parliamo vi faccio vedere ecco perciò chi vuole si abboni e avrete contenuti in più tra l'altro live e anche tante altre cose un po alla volta vi mando un bacio vi do appuntamento alla prossima ciao e buon fine settimana